Benvenuti a meteogiulianci.it, dopo domani, domenica 19 maggio, ancora tempo piovoso su gran parte del centro nord, con piogge diffuse e intense al mattino sul nord Italia, piogge deboli intermittenti sulle regioni centrali, anzi nel mattino le piogge saranno di forte intensità sul Bresciano, sul lago di Garda e sul Veronese. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, questa è la perturbazione numero 6 di maggio, giunta nella giornata di sabato e che, vedete, nella giornata di domenica ricopre soprattutto il nord Italia, marginalmente le regioni centrali tirreniche. Bene, vediamo il tempo che farà nel mattino, vedete le piogge diffuse quasi ovunque, eccetto il medio-basso Piemonte, le Marche, le coste abruzzesi e molisani e il medio-basso Lazio. Le piogge sulle regioni centrali, come dicevo prima, saranno deboli intermittenti, mentre quelle sul nord Italia saranno a carattere diffuso e anche di forte intensità ribadisco sul Bresciano, sul Veronese e sul lago di Garda. Vediamo la situazione nel pomeriggio, vedete le stiarite nel pomeriggio, la perturbazione si sta allontanando, rimangono delle sacche di pioggia sulle Vante Ligure, su tutto l'arco alpino, sul Veronese, sul Friuli e sulla Venezia Giulia. Bene, uno sguardo anche alle temperature, temperature che saranno intorno 18-21 gradi sul nord Italia, tra i 20 e i 23 sulle regioni centrali, ancora 24-28 gradi sulle regioni meridionali, qui fa caldo, ma per effetto ancora del bel tempo che insisterà, come avevo premesso nel primo volettino, insisterà per tutto questo fine settimana. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.